ciao pietro benvenuto grazie per essere sempre qui alla questa video intervista e ti faccio una prima domanda a che punto stai negli studi e che tipo di studi hai portato avanti o stai portando avanti ma io adesso concluso un programma di un anno all'ador il programma tutor sono al secondo anno del biennale della bauer di milano e senti mentre ti faccio poi la seconda domanda vorrei che condividessi la scrivania così intanto facciamo poi vedere delle immagini del progetto che ha realizzato appositamente per confini la prima domanda che ti faccio è cosa rappresenta per te la fotografia e che cosa ti aspetti dalla fotografia in generale per me la fotografia è un linguaggio un mezzo di espressione a pari della parola della pittura della musica e per me è un mezzo con il quale poter sia affrontare il mondo esterno e quindi approfondire la mia conoscenza di ciò che mi circonda quindi magari approccio un pochino più documentario sia anche una maniera di riflettere più su questioni personali o anche più intellettuali e concettuali quindi diciamo di rivolgere la lente verso l'interno più che verso il mondo esterno senti parlaci un po' del progetto che è un progetto abbastanza insomma complesso ma allora il progetto diciamo che nasce dal interesse per capire qual è il confine tra ciò che è considerato normale ciò che è considerato anormale in particolare quello è il confine diciamo il particolare concentrandomi su la tematica della salute mentale di disagi psicologici se non psichiatrici il confine di ciò che è normale ciò che è normale è un confine che è molto labile e che varia molto a seconda del periodo storico culturale in cui ci troviamo e il concetto di comportamento patologico non è qualcosa che è strettamente definito in termini scientifici diciamo ma anche una tutta una parte di comprensione che fa riferimento a dei valori culturali che non sono per così dire oggettivi misurabili quanto quelli scientifici e quindi il mio progetto nasce da questo interesse sul normale la normale come viene definito patologico e inizialmente volevo esplorare questa domanda in conversazione diciamo con le pazienti affetti da sindrome borderline che è una sindrome che anche già soltanto dal nome indica una serie di sintomi di comportamenti che non divergono troppo da dinamiche normali ma che sono come un eccesso diciamo un'incapacità di contenere reazioni emotive comportamentali adatte a certe situazioni a certi stimoli e quindi in questo senso è quasi un è una sindrome che si pone appunto su questo confine poi dicevo appunto il non è stato possibile proseguire la collaborazione fino a quello che speravo fosse il naturale compimento del progetto però mi sono reso conto che le domande anche che rivolgevo all'interlocutore e all'interlocutrici erano anche delle domande che avrei dovuto prima rivolgere a me stesso e quindi anche alla fine si è risolto in un'indagine rispetto a quella che è stata la mia esperienza personale particolare con con la depressione negli ultimi anni e come poterne parlare in una maniera che fosse evocativa attraverso l'uso dell'immagine e usare le immagini che destabilizzino magari ciò che è normale ciò che non è normale cercare di andare oltre una lettura puramente superficiale da scalica di ciò che c'è per creare nuovi significati e direi immagini forse che come dire in qualche modo evocano più un'immaginazione sul tema più che una documentazione effettiva assolutamente sì non è non è mio ormai credo che anche per i tempi in cui viviamo la fotografia è stata molto è diventata problematica nel senso in cui quanto ci possiamo fidare della sua capacità documentatrice quindi anche volendo trattare questo argomento che comunque è un argomento sociale che riguarda la che riguarda tantissime persone non ho voluto farlo con un linguaggio strettamente documentario giornalistico ma sempre che potesse essere metaforico ed evocativo di di un'esperienza non di una formulazione medico scientifica senti Pietro sei giovane però se un giovane ti avvicinasse o volesse comunque avvicinarsi al mondo della fotografia e ti chiedesse dei consigli che consiglio gli daresti in base a quella che è la tua esperienza non dico tanto professionale perché forse quella ancora la vissuta molto poco ma quanto la tua esperienza nel campo della didattica quello che stai approfondendo con la fotografia quello che sono anche le tue aspirazioni quello che hai capito fino adesso del mondo della fotografia ma gli direi sicuramente di di farlo di fotografare di fotografare senza paura senza esitazione e allo stesso tempo di provare a farlo in una maniera consapevole cioè come di trasformare la fotografia in un istinto consapevole proprio perché le immagini hanno potenzialmente un valore e un significato enorme e è possibile anche capendole come linguaggio come riuscire a sfruttarle diciamo anche al meglio per eventualmente voler comunicare qualcosa se c'è un intento comunicativo dietro questo è anche importante ma chi mi chiedesse perché cosa cosa un consiglio per chi inizia a fare fotografia è capire che cosa ti interessa comunicare come cosa ti interessa vedere cosa interessa conoscere prima di tutto senti l'ultima domanda è relativa alla coll che esperienza è stata per te ed è perché ancora in corso d'opera e vorresti che venisse offerta anche altra persona nel futuro beh sicuramente è un'opportunità che sarebbe bello che venisse offerta anche a altre ragazze e altri ragazzi in futuro è stata un'esperienza molto positiva per me devo dire è stata un'esperienza molto positiva perché ho potuto confrontarmi con un tema dato una deadline diciamo quindi anche lavorare con un termine è stato molto importante e soprattutto anche confrontarmi pur al momento ancora non ci siamo incontrati in carne ed ossa ma anche con i lavori di altri ragazzi miei coetanei e poi soprattutto anche non ho mai avuto la possibilità di provare anche delle attrezzature messe a disposizione dal proprio dalla organizzazione del bando quindi stato anche un modo molto interessante di poter provare nuove tecniche allargare quelli che erano dei confini che avevo in precedenza diciamo bene esci dalla condivisione così ci salutiamo compariamo diciamo con facce un po' più grandi e niente verrà pubblicata presto la video intervista quindi ti pregherei poi quando quando la pubblichiamo di condividerla con sia i tuoi colleghi che con i brand insomma di diffondere la notizia perché serve e serve assoluto a te per darti visibilità e dare visibilità al tuo lavoro ti ringrazio moltissimo grazie mille a te ci vediamo presto per la continuazione della collega del progetto ciao grazie mille a te grazie mille a te grazie mille a te